Ho fatto un clima un po' particolare di gente che... Ma io so come te, non ho pelle sulla lingua. No, no, fai bene. Io ho visto anche i genitori. Anzi, per questo li apprezzo ancora di più. Padre di famiglia che avevano il figlio che giocava contro di noi, che insultavano in tribuna. Ho visto delle cose pazzesche. Cioè, parte della... A me, so padre di famiglia, no. L'educazione a miei figli non andare mai come loro. Cioè, loro quando tornano a casa, non so che fanno. Perché quello che ho visto domenica al campo lì, per me è scandaloso. Per quello che vedo del calcio, per il mio mondo di vedere. Il modo è anche di crescere un 2001. Perché là dobbiamo parlare di otto giocatori che erano 2001-2002. Sì, ad un certo punto la Virtus ha scelto 9 under. Ci vuole educazione anche da parte dell'allenatore. Perché la panchina, loro, insultava, minacciava. Io queste qua le radierei del calcio. Per me, come la vedo io. Perché è assurdo. Questo lo sfogo in occasione del pareggio tra la Virtus Avellino e la Vista Riano Accadia di David Munard, giocatore della compagina Ufitana. Ieri sera, ospite nella trasmissione Polvere di Stelle. Sfogo che non è andato giù alla dirigenza dei Biancoverdi. Da qui un nuovo video nel quale Davide Munard chiarisce una volta per tutta la questione chiedendo scusa al club avellinese. Le mie parole sono state anche interpretate in malafede, in male su quelle che riguarda la trasmissione di ieri. Ho detto soltanto delle cose che magari anche dovute a quel pareggio che ancora ci brucia. Sono un po' parole dure e forti, ma non sono sicuramente contro l'allenatore o contro la società della Virtus Avellino anche perché c'è un mio amico fraterno che ci gioca lì e non mi permettere mai. Per me è una cosa, ho parlato con il mister della Virtus che stimo tanto, è una cosa che deve finire lì perché sono persone per bene.